Come è il nostro paese? L'Appennino è particolarmente difficile da raggiungere e quindi per noi il problema è cruciale nel capire come un nuovo approccio culturale in qualche modo vada a fermare quel fenomeno sempre più forte che è quello dello spopolamento delle aree interne. Qui oggi parliamo dei sismi, in particolare qui a Treia nell'area vicina al cratere appunto toccata dal terremoto ma come molti hanno già detto il sisma non ha stato altro che un elemento acceleratore di un processo che in qualche modo dobbiamo riconsiderare. L'apporto che noi vogliamo dare è quello appunto di una riconsiderazione dell'elemento culturale tenendo presente che in particolare sulla questione dei beni culturali in questo inizio di terzo millennio le categorie di spazio e tempo stanno saltando e che dobbiamo cambiare completamente approccio. Parlare di open data, parlare di nuovi approcci, parlare di una nuova relazione anche con l'anima di questi luoghi che sono l'agricoltura e l'artigianato, capire come affrontarli in maniera diversa. Questa è una grande sfida a cui noi ci stiamo preparando in particolare per il 2019.